eccoci qua ci siamo ragazzi buongiorno oggi parliamo come avete visto dal titolo del petto alto quindi la porzione praticamente il fascio clavicolare del pettorale il pettorale si divide in due porzioni diciamo la fascia clavicolare e quella invece esternale che è praticamente mezzo petto medio e più basso ok oggi parliamo quindi di come andare a colpire meglio la parte alta chiaramente con tutta la ricerca scientifica voglio fare un discorso completo quindi in primis partiamo da volume frequenza e intensità il volume diciamo che dovremmo utilizzare per colpire il petto è di più o meno 12 fino alle 22 serie settimanali stando ai volume landmarks di dottori strider cosa vi consiglio di fare a voi di partire con le 13 14 serie settimanali per il petto e se vedete che progredito piano piano aumentare chiaramente se volete tutta una programmazione sapere come fare nei dettagli vi consiglio di fare riferimento alla mia guida scientifica che ho scritto proprio per questo motivo ok quindi questo è il volume poi passiamo alla frequenza il petto allenarlo in monofrequenza quindi solo una volta a settimana non è la cosa più intelligente perché praticamente sia per la sintesi proteica che per il fatto che comunque se andiamo a fare troppo volume in una seduta non facciamo un volume di qualità quindi meglio allenarlo io direi due volte a settimana con due tre giorni di recupero in mezzo quindi magari lunedì va bene e poi lo ricolpite magari il giovedì adesso passiamo a intensità io consiglio sempre di utilizzare una sorta di daily undulating periodization quindi invece di fare sempre la stessa cosa lo stesso carico in tutte e due le sedute fare la prima seduta con carichi più elevati magari 4 5 6 ripetizioni ok con carichi pari 80 85 per cento e più 90 del proprio massimale poi la seconda seduta nella settimana quando siamo più stanchi più avanti una settimana con dei carichi più ridotti e quindi un range di ripetizioni magari 8 10 10 15 ripetizioni ok quindi abbiamo parlato di volume abbiamo parlato di frequenza abbiamo parlato di intensità cosa possiamo fare per colpire soprattutto la parte appunto clavicolare del pettorale cosa fondamentale sono stati fatti degli studi di emg quindi attivazione di emg praticamente stivano stimolano la contrazione nel pettorale con diversi esercizi e vedono quale va a colpire soprattutto la parte alta del pettorale e chiaramente hanno visto che con una banca inclinata quindi con una banca un'inclinazione si va maggiormente a ricorre enfasi sulla parte superiore del pettorale e meno sulla parte diciamo centrale del pettorale cosa vuol dire come possiamo applicarlo ovviamente dovremo sostituire quello che facciamo sulle banca piana con una banca inclinata che può essere manubri può essere bilanciere quello decidete voi magari fate un mesociclo da 10 settimane con la banca inclinata con il bilanciere e provate a progredire e poi il mesociclo dopo fate una banca inclinata con i manubri e provate a progredire io ad esempio quando stavo in america ho fatto 10 settimane di banca inclinata col bilanciere sono progredito mi sembra all'inizio facevo 30 kg al lato per 5 ripetizioni alla fine sono passato a fare 35 kg al lato per 5 ripetizioni e chiaramente ho notato un bello sviluppo della parte alta del petto poi di recente questo è una scoperta che ho fatto di recente che magari avete visto su instagram se mi seguite anche lì ho fatto vedere che appunto è cresciuta molto la parte alta del petto che è sempre stata per me una parte che diciamo volevo riempire ma è sempre stato difficile veramente da riempire che cosa ho fatto ho sostituito i cable flies quindi sapere quelli che fa delle croci diciamo alla macchina oppure ai cavi li ho sostituiti con una variante che va a riporre un pochino più enfasi che sento molto lavorare la parte alta del pettorale che sono il cable chest press quindi press ai cavi con i cavi settati un po sotto altezza pettorale diciamo altezza capezzolo più o meno bene quindi un po diciamo dal basso verso l'alto che anche proprio come vanno diciamo come vanno le fibre nella parte clavicolare del petto ok dal basso verso l'alto quindi facendo un chest press dal basso verso l'alto io noto un attivazione incredibile del pettorale qua in alto e vi volevo dire vi consiglio di includere anche questo quindi farei due cose principalmente come per quanto riguarda la scelta degli esercizi andrei di panca inclinata su tutto quindi invece di fare panca piana fate panca inclinata a bianciare o manubri magari ogni seduta potete fare dalle 3 alle 5 serie di questo movimento e poi è passata a fare dalle 3 alle 5 serie di questo low to high cable chest press secondo me fate questi accorgimenti e fate gli accorgimenti che vi ho detto di volume ok quindi essendo sicuri di non fare troppo di non fare troppo poco di fare il giusto per trovarlo come fate vi dico iniziate a fare 13 14 serie per il petto a settimana quindi se lo colpite due volte sono 6 7 serie ogni due volte ok quindi magari tre serie della panca e poi quattro serie dei cable chest press e poi piano piano se progredite iniziate ad aumentare il vostro volume ok potete arrivare fino a fare un volume molto più maggiore ma questo è tutto parte dell'individualizzazione diciamo che la scienza ci dà una media e diciamo che possiamo iniziare a un punto di partenza poi dobbiamo trovare esattamente ciò che meglio fa per noi quindi io devo dire che implementando solamente questi due consigli quindi sostituendo panche piane con panca inclinata e trovando un esercizio che vi faccia sentire bene meglio attivare e contrarre la parte alta del pettorale io penso che vedrete e noterete molti molti risultati chiaramente dovete dargli almeno meso ciclo quindi almeno 5 settimane anche 10 settimane per iniziare bene a vedere i risultati detto questo passiamo alle altre cose che si possono fare chiaramente la massa muscolare si ottimizza quando siamo in surplus calorico quindi se state un periodo di massa assicuratevi che state in un bel surplus calorico non troppo alto per mettere su troppo grasso ma in 150 calorie sopra il vostro mantenimento che magari prendete 0.5 chili al mese dipende dal vostro livello quindi quello innanzitutto ovviamente proteine io di solito dico due grandi per chilo corporeo siete sicuri di prendere i benefici minimi e di più ok quindi non c'è bisogno di andare oltre 2 grammi per chilo corporeo di proteine anche solo facendo questi due accorgimenti con la dieta siamo sicuri che stiamo ottimizzando il posto percorso per mettere su massa muscolare anche appunto nella parte superiore del petto ultima cosa secondo me che molti di noi dovremmo imparare a fare sono due cose il primo è la connessione mente muscolo e la seconda è il tut o time under tension allora connessione mente muscolo non è stato fatto credo una ricerca sul petto ma sui bicipiti e si vede che chi attivamente pensa e si focalizza a contrarre il bicipite cresce di più rispetto a chi semplicemente fa il movimento e secondo me questo può essere appunto spostato e può essere utilizzato per ogni gruppo muscolare anche il petto ok c'è una grossa differenza a semplicemente fare il chest press con i cali rapidamente o sentire il muscolo che contrae focalizzare la tensione se volete provare a fare chiudete gli occhi ok chiudete gli occhi so che sembra strano ma chiudendo gli occhi potete veramente riportere maggiore attenzione al petto e essere sicuri che attivate il petto non le spalle e non altri gruppi muscolari quella è la prima cosa seconda cosa il tut time under tension non è una variabile iper importante ma è importante per essere sicuro che la state riponendo abbastanza tensione meccanica però abbastanza tempo sul pettorale ok quindi qual è un tut migliore in teoria non esiste l'importante che non sia mega super slow quindi l'importante che la ripetizione non duri più di 10 secondi e l'importante è controllare la ripetizione sia in fase concentrica che in fase eccentrica quindi magari un 2 3 4 secondi di fase eccentrica quindi quando scendete allungate il pettorale 234 secondi e poi 12 secondi per ripartire su ok quindi un totale di ripetizione diciamo 6 secondi va bene fino a 10 secondi va bene solo che nella letteratura si vede che se fate più di 10 secondi sembrerebbe diminuire il totale di ripetizione che riuscite a fare e di conseguenza diminuisce il volume che state facendo va bene questo era il video per oggi io spero vi sia piaciuto so che ho provato diciamo a includere un pochino di tutto non posso andare super nei dettagli anche perché diciamo che si tende più a leggere e a studiare rispetto a semplicemente io che parlo se voi volete un programma imparare a fare i propri programmi di allenamento e volete sapere come strutturare a meglio tutto volume intensità frequenza come strutturare il vostro meso ciclo come strutturare il vostro anno di allenamento e volete anche dei programmi esemplari ho scritto la mia guida scientifica natural da 0 a 100 che attualmente per natale e diciamo le feste sta al 40 per cento di sconto quindi vi lascio qui il link se volete andare a dare un'occhiata secondo me è ottimo sono veramente sicuro al 100 per cento che lo acquisterete sarei tipo ok così si fa e andrete a bomba io vi ringrazio di cuore come sempre per la visualizzazione lasciateci un bel like iscrivetevi al canale lasciatemi un commento e fatemi sapere se volete qualche altro video informativo io vi ringrazio paro il palestra il prossimo video ciao